Non so bene come dirvelo, ok? Siete seduti? Con Arturo purtroppo non ha funzionato. Ma non dispiacetevi per me, perché... Beh, l'ho lasciato io. Ve lo giuro! È che eravamo davvero tanto diversi. E credo di aver fatto un favore anche a lui, perché, ragazzi, diciamoci la verità. Gli opposti si attraggono, ma poi alla fine si lasciano. Ah, che caffono, scusate. Il ragazzo gusto di maionese e ketchup è Gabriele. L'ho conosciuto circa tre mesi fa. 27 anni, diplomato a pieni voti e in pittura e scenografia all'Accademia Albertina delle Belle Arti. Per ora fa piccoli lavoretti in cerca della sua grande occasione. Credo che questo sia tuo. Grazie, scusa. Non c'è di che. Posso? Non ti prego. Ma che belli i tuoi disegni. Voi penserete super creepy. Io ho pensato super romantico. Gabriele era divertente. Gabriele era dolce. Gabriele era molto, molto determinato. Buongiorno. Capito, ti sei già pentito, va bene, tolgo subito il disturbo. Ma chi è pentito, torno subito a letto. Immagino che si sia capito che mi piaci tanto. come si ci sia una po' di questa altra. Dove come si sia una po' di questa altra. Grazie. No.